perché col passare del tempo tutto si confonde e prende la forma di un sogno che continua anche ad occhi aperti anche ora che sono qui in questo luogo che non so definire che mi sembra più uno spazio irreale che un posto concreto senti se la testa che aperto non deve servirmi ad altro che sbattere un nuovo paziente ma signora ogni volta la stessa storia mi fa tanta paura me lo uccidi è fluido lo vedo aveva ragione per solo basta se continuate così vi faccio cambiare turno e vi pianco una volta e per sempre prima alla pistola alla pistola ma forse per sbiare la spada capisci perché i miglioriti certo con la pistola ma che dici quello ma quello di imbrocca un soldo incafforato e non augura venti passi e ha proposto lui venanzi la pistola lui lui compressore e rimasi lì solo pieno di amarezza ma deciso a portare a termine il piano che mi era apparso chiarissimo fin dall'inizio fin dall'inizio grazie 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 grazie